credo che un mezzo di locomozione facile che non inquina e non costa nulla sia una delle invenzioni più straordinarie dell'uomo chissà come mai ci siamo disabituati quasi ce ne siamo disfatti per anni per poi tentare di sanare il danno arrecato invadendo le città con le sharing bike per fortuna ho imparato a volare dall'alto le cose sembrano più belle basta concentrarsi e poi si va bisogna solo decidere dove e se avesse ragione tore quando dice che il lavoro ci sta imbruttendo forse non ha tutti i torti siamo sempre più concentrati sulle performance sulla produttività sugli standard qualitativi siamo sempre più social e sempre meno sociali